Non può che accogliere un'iniziativa del genere, lanci in rappresentanza dei vari comuni d'Italia, in particolar modo dei comuni della regione Puglia, perché molte volte il contenzioso che nasce fra gli operatori e i condomini e i vicini per questa benedetta canna fumaria che è diventata un'esasperazione per molte persone. Trovare un'idea così innovativa, tecnicamente, che si possa inserire nel tessuto e risolvere questo problema annoso sicuramente non può che essere accolta in maniera unanime sia dall'amministrazione comunale sia dagli enti proposti come le ASL e altri, che in maniera favorevole. La cosa che va riconosciuta è l'orgoglio che va detto della Puglia che questa idea nasce in Puglia, da questa nuova società, nella persona dell'ingegnere armeniste, che ha avuto un intuito e una professionalità geniale di poterla realizzare.